Dobbiamo togliere questa parte qua. Sì, prima lo saldo e poi lo tolgo dopo. E poi c'era l'asta per mettere la pallina. La pallina. Sono Natalia Priado, sono industrial designer. Quattro anni fa sono ritornata a vivere a Milano con il mio progetto che si chiama Hojas in casa. Hojas in casa vuol dire gioielli per il tavolo. La mia filosofia di vita è prima di tutto fare le cose che mi fanno felice e iniziare con dei rituali. Quindi molti dei miei oggetti sono parte della mia esperienza. Questa casa certamente credo trasmette la mia filosofia e mi piace anche tutta la parte di mood board o quando devo sviluppare una collezione sempre, sempre la faccio qua che è il mio spazio e dove mi sento rilassata. Con Artknit abbiamo in comune il fatto che sono produzioni artigianali, la sostenibilità dei materiali, le importanze delle materie prime che fanno un prodotto unico. Il rapporto con l'artigiano credo sia la parte più importante da questo lavoro e le tecniche che usiamo sono tecniche che si stanno perdendo. è una responsabilità anche dei designers di aiutare a riscattare queste tecniche e a far soprattutto capire che dietro un prodotto c'è un valore, c'è una storia. Grazie a tutti.